20 anni chiari con numero 76 team art performance prima gara della stagione insomma quali sono le tue ambizioni per questo primo round sul circuito di san marchino del lago beh diciamo fare una miglior gara possibile poi diciamo i risultati poi verranno in seguito però dato che la prima gara quindi non posso pretendere nulla questa qua cerco di fare soprattutto una bella gara e divertirmi e divertirmi quello è il mio scopo dato che ho fatto tanti chilometri almeno almeno divertirmi è la tua prima esperienza in questo campionato nel formula promotion che cosa ti ha spinto a provare le brezze di salire a bordo di queste monoposto e provare questa nuova esperienza allora sì quest'anno è la prima gara per me la prima volta che gareggio che che corro con una promozione per il formula promotion e nulla quello che mi ha spinto a stare qui oggi è una forte passione dato che prima corrivo in kart a livelli amatoriali però dato che ho avuto un grave incidente non posso più guidare in kart quindi ho deciso di comprare questa formula e quindi fare delle gare per poi giustamente stare sempre nell'ambito dei motori che la passione che che condivido maggiormente senti a proposito di passione per i motori vediamo che porti un casco celebre quello di virtù senna vediamo che sia il tuo idolo insomma certo vabbè penso che sia un po l'idolo di tutti quanti però io ho voluto dare questo maggio a senna perché noi siamo stati due anni fa ad imola al ventesimo anno dalla scomparsa di senna a girare con un monoposto però all'epoca non l'aveva ancora acquistata e quindi diciamo da allora ho voluto dedicare un casco a senna anche se è una grande responsabilità indossare un casco del genere perché certo è un campione un campione del genere e quindi è una grande responsabilità però diciamo è più per una questione perché io colleziono anche i caschi quindi un domani farmi una collezione di caschi mia privata quindi è la maggiore causale di questa cosa maggiore 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 maggiore